Carissimi amici è arrivato per il YouTube e oggi torniamo con un nuovo gioco di corsa Oggi siamo su Body Race, un gioco dove noi dobbiamo mangiare il giusto, né tanto né poco Per arrivare al peso corretto alla fine del livello Così che dire partiamo subito, ma come sempre c'è qui sotto tantissimi like Se il like che lascerete sarà pari, il cibo associato a voi sarà la pizza Se invece il like sarà dispari, il cibo associato a voi sarà la focaccia Fatemi sapere qui sotto nei commenti a quale cibo siete associati Iscrivetevi al canale con la campanella attiva così anche voi farete parte della Parino Family Portiamo subito, cominciamo e prepariamoci per questa nuova corsa Ok, cominciamo così, siamo una fanciulla che deve correre, deve camminare E dobbiamo mangiare, ma neanche tanto Quando mangiamo troppo possiamo prendere i pesi per tornare magri Ecco in questo caso sono ingrassata fin troppo Quindi prendiamo qua qualche broccolo per dimagrire Perfetto, prendiamo qualche peso per tenerci in forma Evitiamo qua, vai vai vai, non dimagriamo neanche troppo Perché dobbiamo arrivare al giusto peso Quindi non dobbiamo essere né troppo grassi né troppo magri Perfetto, siamo nel punto verde Quindi siamo arrivati correttamente alla fine del livello Ma cos'è sta roba? Ma guardate, metta tutto a ballare così, no? Ma cos'è? Ma perché? Va bene, andiamo avanti, andiamo avanti Non facciamoci domande E ora cosa c'è da fare? Oh mamma mia, uh, però da notare stiamo usando già il nuovo vestito Abbiamo sbloccato il nuovo vestito E adesso lo usiamo comodamente Perfetto, tap to start Ecco, però qua non è che posso fare altro Devo per forza mangiare Quindi mangia qua per bene In questo modo E rimaniamo nel giusto peso Evitiamo soltanto l'e-lamburger Ok, fortunatamente il gioco mi dice a quanto peso sono No, no, ho preso troppo peso Aiuto, aiuto, aiuto Ok, mettiamoci in forma in questo modo E arriviamo alla fine Vai E ora a quanto siamo arrivati? Perfetto, di nuovo al 20 Di nuovo sì, al 20 Al verde volevo dire Di nuovo al punto verde E abbiamo completato anche questo livello E andiamo avanti Purtroppo per prendere qua le nuove skin Devo guardare i video Ma perché? Ma perché? Sempre qua Quando vinco un premio Sempre un video da guardare Insomma, sempre così Sono sempre così Va bene Andiamo qua Mettiamoci subito qua a dieta Anzi, più che dieta Ci mettiamo qua a fare attività sportiva Perfetto Evitiamo soltanto gli hamburger I tacos Meglio non prenderli Ok Vai, 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 vai Bravissima amichetta Bravissima Mettiamoci qui in forma Evitiamo i panini Ma neanche mangiare troppe robe di tettiche Perché dobbiamo arrivare al giusto peso Ok Mamma mia, proprio al limite Quasi al limite ero Oh, vai Perfetto Nuova skin sbloccata Nuovo vestito A posto proprio A posto Vediamo qua Sono curioso di vedere qua lo shop Perché c'è quello shop Ah, perfetto Praticamente più vado avanti E più sblocco qua i nuovi vestiti Va bene Torniamo qua nel livello Torniamo qua nel gioco Prepariamoci per una nuova corsetta Vai michetta Corri, corri, corri Evita soltanto di mangiare cibi Non troppo salutari Prendi questo Ma cos'è sta roba Che cos'è Cosa ho mangiato Cos'era quel cibo Però dobbiamo un po' Ingrassare Un po' magrolini siamo Allora, però non troppo Mettiti così Giusto peso No, 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 no Per sbaglio ho preso gli hamburger A fine livello No Accettabile Accettabile Non è che ho fatto tanto Andiamo avanti Prossimo livello Va Non è che ho fatto tanto In questo livello A posto Proviamo qua Vediamo qua Come dobbiamo arrivare Alla fine di questo livello Vai amichetta Mangia quello che puoi Perfetto, perfetto Su, su Prendi qua i pomodorini Veloce, veloce, veloce Prendi qua i broccoli Bravissimo Ok Cos'è sta roba Ste cose bianche No Pensavo fosse Non lo so Non sapevo neanche Che cosa fosse Erano bottiglie Neanche me ne ero accorto Ma neanche si vedevano Che erano bottiglie quelle Ok Siamo tornati Normali Vabbè Qua dobbiamo arrivare Al giusto No, forse qua Fin troppo magro Fin troppo magro Mamma mia Troppo No E vabbè Andiamo avanti Andiamo avanti Si vede che qua Dovevo arrivare troppo Devo mangiare un po' di più Effettivamente Ci sono livelli Dove devo essere Tipo non so Troppo magro Livello dove devo essere normale Livello dove invece devo essere Un chubby boy Chiamiamolo così Ok Andiamo qua Prendi qua Mettiti qua in forma Bravissima Prendi quei pesi Così Ti metti anche qua un po' di ginnastica Che fa sempre bene Fare un po' di ginnastica Perfetto Non troppo Non dimagriamo troppo Altrimenti qua La vedo male Mangia il panino Mangia il broccolo Ok Così dovremmo essere Dovremmo essere a posto così Proviamo a vedere Vediamo 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 A posto Perfetto Ok Ce l'abbiamo fatta Livello completato Livello completato Anche bene Abbiamo fatto molto bene Questo livello Proseguiamo Qua Fatemi sapere se questo gioco vi piace Se vorreste vederci pure La seconda parte Che lo andiamo a completare per bene Ok Poi dopo voglio vedere pure Che cosa succede Se io ad esempio Dimagrisco troppo Oppure mangio troppo cibo Ok Vai 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 qua amichetta Mangia tutto E fai pure la ginnastica Ginnastica e cibo Sono le due cose Che dovrebbero andare Praticamente A pennello tra di loro Ginnastica e cibo Vediamo qua quanto siamo Mi sa che forse siamo Troppo magri Non lo so Lo vediamo ora Eh Non male Non male Mi dice Ah a posto Va bene Nuovo outfit Abbiamo sbloccato il nuovo vestito Che bello Lo proviamo subito adesso Guardate qua Pronta Per fare una nuova corsa Per raggiungere il traguardo E va bene Riprendiamo questa corsa Cos'è sta roba Dei pomodori in overboard Ok Va bene Mangia i pomodorini Va Vai amichetta Perfetto Tieniti in forma Tieniti in forma Ok Così potrebbe andare bene Potrebbe essere nel giusto Così Sta bene Non è troppo eccessiva E no Ma perché Ma perché prendo i panini Che stanno laterali Cioè li tocco soltanto Col braccio così Mi avvicino soltanto Neanche li volevo prendere Quei panini Neanche volevo prenderli Eh vabbè E qua mi sa che ci metterò una vita Per sbloccare il nuovo vestito Va Proseguiamo Andiamo avanti Va Ok Siete pronti qua Per questo nuovo livello Cos'è quella cosa lì davanti Guardate Cos'è sta roba Ah tipo dei panini Messi in un modo Sì vabbè Ma qua come facevo C'era un gelato Avvolto da panini O prendevo il gelato O prendevo i panini Non potevo fare altrimenti Però così sono troppo magra Ok Perfetto Così sono normale Il personaggio è normale Cos'è sta roba Non lo so Ok Così penso che siamo Nella giusta forma Proviamo a vedere Vediamo qua Quanto siamo Nooo Ecco qua invece Dovevo essere troppo magra Dovevo essere 20 kg Quindi proprio magrissima E vabbè però E qua mi cambiano le cose Da un livello all'altro Qua 100 Dobbiamo arrivare Proprio alla massima dimensione In questo livello Dobbiamo arrivare alla fine In quel modo Quindi dobbiamo mangiare tanto Dobbiamo impegnarci con il cibo Ok Prendi qua il tacos Prendi qua i panini Forse così siamo un po' troppo Quindi cerchiamo Leggermente di smagrire Perfetto In questo modo Penso che così sia Il peso giusto E qua però mi tocca Prendere il gelato Per forza Altrimenti qua Aiuto 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 Ok A posto Così dovremmo farcela Dovremmo farcela Proviamo a vedere Dobbiamo arrivare a 100 kg Perfetto 100 kg Siamo arrivati perfettamente La fine del livello Abbiamo vinto Vai Spettacolare Ok E' l'amichetta che festeggia Qui invece dobbiamo essere tra 40 e 60 Quindi dobbiamo mantenerci circa sui 50 kg A posto Quindi cerchiamo di mangiare equilibratamente In questo modo Bravissima amichetta No così però siamo troppo magri Dobbiamo mangiare ancora di più Perfetto in questo modo Bravissima Ma qua soltanto broccoli ci sono I broccoli mi fanno stare sempre magri No così però forse un po' troppo Ok Rimaniamo così Dovremmo farcela in questo modo Proviamo a vedere cosa succede Ok Perfetto Risultato buono Risultato buono Livello completato Abbiamo sbloccato pure la nuova skin Ok Andiamo avanti Andiamo avanti Vediamo qua che cosa succede Sono curioso di vedere Qua il prossimo livello Pure la nuova skin Bravissima amichetta Ok Dobbiamo arrivare a 80 kg Quindi non dobbiamo mangiare poco Dobbiamo mangiare un po' di più rispetto al solito Però così forse siamo un po' troppo Quindi Cerchiamo di dimagrire leggermente Ok ok Lezione di dieta Con panino tube Ma da quando Ma cos'è Vabbè Non pensavo che avremmo fatto un video Comunque sulla dieta Mai avrei immaginato Che avessero mai fatto un gioco su sta roba Però siamo arrivati perfettamente 80 kg preciso La skin da infermiera A posto No grazie Andiamo avanti Il prossimo livello E qua dobbiamo essere sui 40 kg Dobbiamo essere sui 40 kg Ok Quindi dobbiamo cercare di dimagrire Da questo punto di vista Cerchiamo di evitare i panini E meno male che ha detto evitiamo i panini Li sto mangiando tutti Ok Qua No forse è meglio prendere qua Perfetto L'overboard Guarda dobbiamo dimagrire Ora dobbiamo dimagrire Non mi fanno per nulla dimagrire No non ce la faccio No non ce la faccio E' troppo difficile Perfetto di aver fatto sto livello No forse ce l'ho fatta Forse i broccoli all'ultimo minuto Mi hanno salvato la vita Eh sì Leggermente I broccoli all'ultimo minuto Mi hanno salvato Mai l'avrei detto Che dei broccoli Mi avrebbero salvato all'interno di un video Di un gameplay Mai l'avrei mai detto Prossimo livello Dai che fra poco sblocchiamo la skin da infermiera Vai 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 perché sono curioso 60 Dobbiamo arrivare al sessantesimo chilo Perfetto Tocca qua per continuare Mangia i panini Mettevoci un po' a dieta Mangia i pomodorini Neanche troppo poco Dobbiamo mangiare perché Dobbiamo arrivare a 60 chili Che comunque non è poco Non è poco Ma non dobbiamo neanche mangiare tanto Quindi dimagriamo così Perfetto Cerchiamo di tenerci così in forma Così dovremmo arrivare in forma Alla fine del livello Proviamo a vedere Non lo so Io non è che mi intendo tanto di chili Quindi Eh beh dai Buon risultato Buon risultato A posto Sì Nuova skin da infermiera sbloccata Ok Vai Prostimo livello Che livello siamo arrivati Ho perso il conteggio Ok vabbè non importa Dobbiamo arrivare A 60 chili Quindi devo dimagrire Dobbiamo dimagrire tantissimo Prendi qua Broccoletti Bravissima amichetta Bravissima Ok Prendi qua qualunque cosa C'è triolo Pomodoro Tanto non è che posso fare qualcos'altro Un gelatino Così per Rinfocillarci un po' Qualche paninetto A posto Vediamo quanto siamo arrivati Che sono curioso A posto 60 chili precisi 60 chili Vai Bravissima amichetta Sono contento per te Che sei riuscita così A mangiare nel giusto Equilibrio Quando si dice mangiare In modo equilibrato In questo modo Ok Perfetto Quindi dobbiamo arrivare Sui 50 Circa Circa 50 chili Prepariamoci La skin da poliziotta Prossimo livello 100 chili Qua dobbiamo mangiare Quando si mangia troppo Si perde in questo modo Quindi dobbiamo fare molta attenzione Molta molta attenzione Dai vai vai Veloce veloce Che voglio sbloccare il nuovo costume Da poliziotta Così almeno posso andare ad arrestare Chi mangia troppo Ma io posso uscire qua da livello No Non posso uscire No Ho dimenticato di prendere il gelatino Ok Prendi qua tutto il latte Tutto il latte che puoi Prendi qua il burrito Non mangio più nient'altro Non mangio nient'altro Così penso che vada bene Perché so già che se mangio qualcos'altro Faccio una brutta fine E io voglio evitare di fare una brutta fine Quanto arriviamo? 100 100 precisi Si Abbiamo sbloccato il nuovo outfit Vai L'outfit da poliziotta Lo proviamo subito in questo livello Andiamo subito qua Tocca per partire Perfetto Qui dobbiamo arrivare a 65 Quindi dobbiamo dimagrire Mangiamo tutto quello che ci tocca da mangiare Veloce veloce Brava amichetta In questo modo dimagrisci Penso che siamo bene a livello di peso Penso che siamo messi bene Però ci mettono sti panini qua E dai però E dai Allora rimaniamo così Vediamo in questo modo se arriviamo precisi Vediamo vediamo che sono molto curioso Perfetto Pian piano sto imparando a giocare a sto gioco Pian piano sto migliorando Ok Direi di fare una cosa Direi di fare no grazie E direi anche di fermarci qua con il video Fatemi sapere cosa ne pensate Spero che questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto mi raccomando Sparicciate Quindi vi dite Iscrivetevi al canale con la campanella attiva Non ci vediamo nel prossimo video E come sempre vi auguro una buona giornata Buona giornata Una buona notte Ciao a tutti E buon panino attotte E buon panino attiva E buon panino attiva